Mi chiamo Rocco Piras, titolare di una piccola azienda agricola che si occupa di allevamento di maiali sardi. Praticamente è un'azienda unica in Sardegna, perché è la più grossa che c'è. Altri allevamenti semibradi così grandi praticamente non ce ne sono. Un'attività abbastanza particolare, perché il maiale sardo è sempre stato rifiutato da tutti. Il problema è che è un'attività che non produce abbastanza reddito. L'allevamento si espande per circa 20 ettari, ci sono circa 60 animali dentro. I maiali vivono praticamente all'aperto, in piena sintonia con la natura. Praticamente sono sempre liberi, vengono richiusi solamente per il periodo del parto. La gestazione dura tre mesi, tre settimane e tre giorni. Con questi maiali la previsione, le aspettative sarebbero di fare un salumificio, un piccolo laboratorio per produrre prodotti artigianali, tipo prosciutto, guanciali, pancette e salsicce. Una produzione di circa 600 maialetti l'anno. Ho iniziato dieci anni fa per gioco, giusto per avere due animali da compagnia, poi la cosa è diventata sempre più impegnativa, allora abbiamo deciso di fare quasi seriamente. È un allevamento diverso dal solito. A me non interessava allevare gli animali dentro la stalla, rinchiusi, nelle loro gabbiette non vedevano mai la luce del sole. È proprio una metodologia diversa. E poi passare la giornata in campagna non è come passare dentro un cappannone. Allevare i maiali è un mestiere abbastanza simpatico, però non basta per incrementare il reddito. Allora ho pensato di fare piante officinali. Piante officinali lavoro praticamente alla macchia mediterranea, distillo le piante oppure le essico. Un messaggio per i popoli del mondo, per chi ha la possibilità di lavorare in campagna o di ottenere prodotti agricoli di ottima qualità, sarebbe bene che ognuno si dedicasse proprio a fare un mestiere agricolo, perché è molto redditizio, è salutare e poi ti permette di mangiare roba abbastanza genuina.